Brutta disavventura per una turista romana di circa 75 anni che nella mattinata di erisi infortunata nel corso di un'escursione sul sentiero del cuore a Scanno. L'anziana che si trovava nel borgo Lacustre in compagnia di altre persone sarebbe caduta rovinosamente a terra rimediando una frattura scomposta alla caviglia. Sul posto si è reso necessario l'intervento di un elicottero del 118 di Pescara per operazioni di recupero. L'anziana, una volta soccorsa sul posto, è stata portata nell'ambulanza nella piazzola di atterraggio località incoronata di Sulmona. Qui è stata caricata dall'equipaggio per essere poi trasferita nel locale nosocomio per gli interventi e trattamenti sanitari del caso. Lo scorso anno il commissario liquidatore della comunità montana, Eustachio Gentile, aveva chiesto interventi specifici sul sentiero in termini di percorribilità, cartellonistica e sicurezza.